Gli oceani, i mari e le risorse marine sono fondamentali per regolare il clima, la disponibilità d'acqua e di cibo e l'aria che respiriamo. Le attività umane degli ultimi decenni stanno impattando negativamente le acque in tutto il mondo, in seguito all'inquinamento e alle pratiche di sfruttamento intensivo della flora e della fauna acquatica. La pesca eccessiva per esempio è una grave minaccia alla sostenibilità dei mari e di tutte le specie che li popolano. Secondo il WWF ogni anno a livello mondiale vengono pescate illegalmente tra le 11 e le 26 tonnellate di pesce, ovvero più di 800 kg di pesce selvatico sottratto ai mari ogni secondo e che si traduce su una perdita economica che va dai 10 ai 23 miliardi di dollari. Il 31% degli stock ittici globali è sfruttato oltre il livello consentito a causa di attività di pesca eccessive e non dichiarate e la cattura di specie animali e vegetali rare e minacciate. Cosa possiamo fare? Pescare in luoghi in cui sia consentito regolamentato, comprare prodotti di origine controllata e certificata, preservare le acque senza gettarvici rifiuti o inquinarli in altro modo. Se si svolgono attività sott'acqua, come le immersioni, prestare attenzione a non deturpare la flora e la fauna marina. Per approfondire queste e altre tematiche sulla sostenibilità iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile dell'Università di Udine.